Ciao, sono Marina, siamo a Milano, in uno dei locali Lato G, questa è una ciocco gelateria, caffetteria. Per quanto riguarda il nostro gelato, abbiamo della frutta che viene dal commercio ecosolidale. Utilizziamo molto la bacca della sei oppure la guayaba. Potete venire alle 7 di mattina a fare una buona colazione con delle ottime brioche o del buon caffè, un cappuccino oppure il nostro marocchino estivo. Verso le 11 abbiamo delle tartine, piccole pizzettine. Verso l'ora di pranzo abbiamo i nostri panini che sono i bagel, i brezel oppure le nostre focaccine. In questa nostra gelateria potete trovare un unico gusto o mela o pera o pesca per i nostri amici animali. Volete venire a trovarci anche in inverno? Qui da noi si berrà un'ottima cioccolata calda con la panna e delle buonissime torte. Adesso vi saluto, vi do appuntamento nei nostri locali, sarete sempre benvenuti insieme ai vostri piccoli amici animali. Grazie a tutti.